Cittadini americani, le cosiddette forze occidentali di Texas e California. Muoversi! Hanno subito una sconfitta molto pesante per mano delle forze militari statunitensi. Si spostano a Washington oggi. Dobbiamo andare lì. Siamo americani, ok? Che genere di americani siete? Non lo sai? Non sapete loro per chi combattono. Qualcuno ci vuole uccidere e noi vogliamo uccidere loro. Ogni volta che l'ho scampata in una zona di guerra ho creduto di lanciare un monito. Non fatelo. E invece eccoci qua. Grazie.